Secondo appuntamento di Raccontando sotto le stelle, la Kermes di teatro all'aperto per famiglie e ragazzi che colora l'estate di Trani. Il festival di teatro ragazzi organizzato da Marluna Teatro e Miranfu, libreria dei giovani lettori, dedicata ai bambini e alle loro famiglie, è la dodicesima edizione di questa rassegna teatrale che diventa un punto di riferimento per tutto il territorio della BAT. Per noi è una grande conquista riuscire ad essere arrivati alla dodicesima edizione, organizzata appunto da Marluna Teatro con la collaborazione di Enzo Covelli, il direttore della libreria Miranfu di Trani e ogni anno riusciamo sempre di più ad ampliare non soltanto la nostra offerta, ospitando anche compagnie non solo pugliesi ma anche a livello nazionale, ma anche ampliando il pubblico perché ormai ci raggiungono anche al di fuori della provincia, per cui siamo contenti di questo successo. In realtà questa amministrazione sono già due anni che ci sostiene in maniera importante, questo ci ha consentito di mantenere bassi i biglietti del prezzo per il pubblico e soprattutto di poter veramente ampliare anche la nostra offerta culturale a livello di spettacoli, per cui sì è molto importante ed è prezioso il loro sostegno. Il trade union potrà sembrare strano ma è proprio il fatto che gli spettacoli siano tutti completamente diversi tra di loro e anche il fatto che Maria Elena Germinario, con la quale condividiamo questa esperienza della direzione artistica, viene da un'esperienza di teatro d'attore e io invece vengo dal mondo di quello che è il teatro di figura, quindi burattini, pupazzi, ombre, per cui insieme abbiamo trovato la cifra stilistica del festival, che è proprio la commistione tra questi due mondi e quindi sono cinque proposte, tutte diverse tra loro, che contemplano sia il teatro di figura che il teatro d'attore. Stasera per esempio in scena ci sarà Azzura nel Paese delle Bottiglie che vede protagonisti pupazzi insieme alla recitazione degli attori. Poi invece avremo una novità per noi, il prossimo spettacolo invece è tutto di narrazione teatrale, per cui avremo l'onore di ospitare Roberto Anglisani che è uno dei principali interpreti di questo genere. Un uomo è la sua sedia che racconta e con le sue parole riesce ad attivare un cinema nella testa dei bambini e quindi ognuno di loro è libero di visualizzare immagini e di produrre immagini. Grazie a tutti.